bella ragazzi bentornati sul canale di luca 7392 ed eccoci tornati qua di nuovo con mafia 3 e con il nostro grande lincoln clay apriamo subito la mappa di gioco per vedere che missione fare allora questa che dice estorsione del sindacato l'abbiamo fatta mi pare una simile l'altra volta se non mi sbaglio questa contrabbandieri parla con conni de marco facciamo questa sabotare i morchi dell'unione di marco su da capisci che non c'è niente che non possiamo superare sia una tempesta di pioggia o di violenza perfetto prendiamo sta bella macchina e andiamo sogniamo la radio perfetto oggi ragazzi un tempo di merda da me mamma mia tutto il giorno che piove c'è vento forte infatti la linea internet mi è andata pure a puttane parecchie volte c'è avuto un sacco di disconnessione e no mo se ne faccio passa uno non vuol dire che tu ne faccia a tutti vabbè vicino l'obiettivo meno di 200 metri per fortuna ok siamo arrivati perfetto parcheggiamo un po meglio se ci riusciamo perfetto perfetto vuol dire va benissimo ok questo è il mio amico ragazzi è il primo andato che armi abbiamo fammi vedere ma sempre il fucile da cecchino ok la pistola ce l'abbiamo chissà perché una pistola oddio ha un'arma è davvero assurdo oddio sono morti forza non vuole comprare dei ventilatori è una dei mortacci tua di tua azia quella pelata col cerchietto ok pure questo è fottuto perfetto capo fammi riparare dove sta sto bastardo tu metti la testolina fuori fuori maledetto da che l'ho ucciso troppo tardi stronzo prendiamo il fucile da cecchinozzo va dai no cazzo ma lo guardo preso perfetto ho preso molto bene ricarichiamo pure questo perfetto penso che abbiamo sabotato i rimorchi dell'unione abbiamo completato la missione penso luce a baccate abbiamo preso pure un po' di munizioni perfetto riprendiamo la nostra macchina che avevamo parcheggiato prendiamo la radio ah no era già spenta vabbè ora non so dove dobbiamo andare però vedo là che c'è l'obiettivo con i metri no non è per di là ma per di qua attra attra che c'è l'obiettivo con i metri che c'è l'obiettivo con i metri anche a che c'è l'obiettivo con i metri dai che siamo quasi arrivati perfetto siamo arrivati parcheggiando la macchina meglio la parcheggio così così almeno appena è parcheggiata un po' in mezzo al cazzo ma vabbè la parcheggio così almeno appena ritorno già in posizione per partire ehi capo ehi a una pistola in testa più deciso proprio perfetto pure questo più deciso in testa alla grande 4 colpi a fucile da cecchino ci sono rimasti prendiamo fatti i soldi perfetto munizioni per la pistola prese ci servirebbero un po' di munizioni per il fucile da cecchino perfetto pure questo è un dato manca quello là ranicchiato là sopra qualcuno che spara chi è metti fuori la gestolina bastardo chi è che spara no la sentinella là dietro battardo cazzo maledetti no da dove cazzo hanno sparato ah da dietro e te pareva che cazzo questo art hoc qua sono belle ragazzi comunque perfetto siamo di nuovo qua e riproviamoci si ricarica veloce questa pistola cazzo mi ha beccato mi ha beccato perfetto ho preso prendiamo i soldi cazzo cazzo no porca puttana ma non è possibile che cazzo di nuovo non ero concentrato non mi sono impegnato abbastanza stavolta ci riprovo ci riesco come stavolta come stavo dicendo prima ragazzi questi artwork di quando muori nei caricamenti sono belle no solo un colpo è rimasto porca droga mettiamo in moto le cose alcuni di noi vogliono lavorare cazzo cazzo zero gol no pure l'emulsione della pistola ho finito porca puttana no vabbè devo aspettare che questo venga qua mortacci tua mi prendo sto bel fusile quanti colpi c'ha tre colpi vabbè vediamo se ci sono munizioni per la pistola qua si ci sono perfetto no scusate ma sto pezzo è tosto poi non c'ho munizioni ce n'ho pochissime eh comunque non c'ho proprio munizioni quanto hai perso no merda non mi piace è qui il fracco di rincoglioniti amato questo santo fiappone avete delle cartucce ma il mio cane piaceranno un sacco le tue ossa avvicina che ti faccia un bel attacco corpo a corpo magari una bella coltellata avvicina il strunzo su abbiamo ospiti maledetta sentinella che hai chiamato i rinforzi stavolta vado subito dall'obiettivo mortacci tua e di tua mamma ma porca puttana c'ero quasi raga cazzarola no ci devo riuscire sto rosicando è aperto 143 è uscita è andata da delle sue amiche prima torna alle 8 no ragazzi scusate era entrata mia sorella in camera allora dove stiamo stavolta non ci ha fatto rinascere al solito posto non lo so perché infarto vabbè non lo so Ok eccoci Era proprio qua ragazzi Stavolta mi riparo E sparo Ah merda E qui il braccio di ricoglioniti Non fa male Bastardo Maledetto Oh è morto finalmente Dammi un po' di munizioni e soldi Oh mi ha dato le munizioni per il fucile Perfetto Cazzo Mi sono rimasti solo 3 colpi per la pistola Per il fucile Siamo a 4 colpi Facciamolo avvicinare E poi gli sparo Due colpi di fucile E lo secco subito Vieni bastardo Tira fuori la testolina Preso Munizioni per la pistola prese Cazzo Cazzo Perfetto Ho preso No cazzo No cazzo Bastardo sta chiamando i rinforzi Rotto in culo Maledetto Bastardo Cazzo Ok ho distrutto I rimasti dell'unione Diamoci la gambe No cazzo Bel botto dai Ho pure fatto scatta un idrante qua Su bello vai avanti dai Fattiamo con il rosso E' uguale Aspettiamo quasi arrivati Bella sta macchina comunque raga Una delle poche macchine di mafia 3 che mi piace Penso di andare proprio qui bastardo Vieni bastardo Perfetto Perfetto Sindacato del porto Sede locale 32 Istruzione del sindacato Danni completati Alla grande Parla con Jock Blanchard Perfetto Perfetto Questo è un culo Maledetto Ok Andiamo a parlare con Jock Blanchard Perfetto 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 Non sia in strada a darti la caccia di persona Proseguendo Tutti gli obiettivi del racket rimasti Verranno rimossi Va bene Ho sentito che Andy Turetto È al sindacato del porto E pretende di sapere chi ha impedito ai suoi Di riscuotere le quote Pensi che abbia spifferato a Greco Quello che sta succedendo No, conoscendo Andy Greco lo vedrebbe bene sottoterra Accanto a te Ma c'è dentro fino al col E se ha un lavoro da fare Puoi scommettere che lo farà Che situazione del cazzo E può solo peggiorare Di ai ragazzi che presto torneranno a lavorare Jok Hai fatto incazzare Turetto abbastanza Da farlo tornare al sindacato del porto Dovrei occuparti di lui Perfetto ragazzi Il video di oggi finisce qua Spero che vi sia piaciuto Io come al solito vi ringrazio per essere stato in mia compagnia E vi ricordo di supportare questo video con un bel like E iscrivetevi al mio canale se ancora non siete iscritti E poi vi ricordo sempre di seguirmi sugli altri social Su tutti gli altri social Cioè su Facebook, su Ludomedia e su Twitter Lascio tutti i link in descrizione E ragazzi noi ci vediamo al prossimo video Bella ragazzi Bella Bella